C'è ne dolore nelle paese della media valle seriana per la morte di Dario Capitanio a 29 anni che ha perso la vita a causa di un tamponamento tra mezzi pesanti in autostrada. 81 sindaci aerobici a Roma per incontrare i vertici dei posti italiani non chiuderanno gli uffici nei comuni e sotto i 5.000 abitanti. A Gromo sono già tantissime le letterine portate dai bambini alla Casa Bergamasca di Babbo Natale. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Un giovane di Cene ha perso la vita questa mattina in un tragico schianto avvenuto sull'autostrada 4. L'incidente si è verificato intorno alle ore 10 e l'altezza di Brugherio tra Grate e Brianza e la barriera Milano-Est in direzione Turino. La vittima Dario Capitanio, 29 anni, ha perso la vita nello scontro tra tre mezzi pesanti. Il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere del suo camion finito contro il mezzo che lo precedeva. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Estratto dall'abitacolo grazie all'intervento vigile del fuoco è morto poco dopo. Dario Capitanio lavorava nell'azienda agricola di famiglia. Era molto conosciuto non solo a Cene. Con gli animali dell'azienda partecipava spesso a fiere o rassegne. Domenica, sul suo profilo Facebook, aveva postato la foto del premio vinto a Valgoglio con l'azienda di famiglia per il miglior becco della categoria fino a 12 mesi. Un uomo di 37 anni è stato soccorso dall'ambulanza del Corpo Volontari Presolana questa mattina a Clusone. L'allarme è scattato intorno alle 8.30. Il 37enne era in sella a uno scooter con cui ha impegnato la rotatoria di Viale Venezia vicino alla caserma dei Carabinieri. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. L'uomo è stato portato in Codice Verde presso l'ospedale Antonio Locatelli di Piario. Le sue condizioni non sembrano essere gravi. Uno scontro che ha coinvolto tra i veicoli si è verificato nel primo pomeriggio lungo la strada provinciale della Valle Seriana all'altezza del distributore dei carburanti. Lì sinistra un tamponamento. Ha coinvolto tre automobili, cinque le persone coinvolte nell'incidente, sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde di Colzate. In Codice Verde accorsi anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Ha creato code e rallentamenti la chiusura della Galleria Montenegrone. Nel pomeriggio di oggi il provvedimento è stato preso in seguito a un elemento della volta danneggiato dal passaggio di un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. L'episodio è avvenuto intorno alle 15.45. I lavori per la sistemazione continueranno anche in serata. Ieri mattina a Roma una delegazione di primi cittadini bergamaschi di piccoli comuni insieme a altri 3.000 colleghi provenienti da tutta Italia si sono confrontati con poste italiane. Circa 3.000 sindaci di piccoli comuni provenienti da tutta Italia si sono confrontati ieri a Roma con poste italiane. Erano presenti 81 sindaci orobici, molti anche della nostra zona. Durante l'incontro l'azienda ha illustrato le iniziative in favore delle pubbliche amministrazioni locali e ha sviluppato un confronto con cui approfondire le reciproche esigenze. L'amministratore delegato di poste italiane, Matteo Delfante, ha sostenuto davanti alla platea l'importanza strategica della presenza capillare di poste italiane sul territorio e l'obiettivo di renderla ancora più efficace grazie alla collaborazione con le istituzioni e gli amministratori locali. Tra gli impegni assunti dall'azienda, il primo è a non chiudere alcun ufficio postale nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. È previsto anche il Wi-Fi gratuito in tutti gli uffici postali dei piccoli comuni e nuovi investimenti per la sicurezza con l'ampliamento della videosorveglianza all'interno e all'esterno degli uffici. Un'attenzione particolare sarà poi riservata ai 254 paesini italiani che non hanno un ufficio postale. In provincia di Bergamo sono 23. In questi comuni entro un anno verranno installati sportelli ATM, i postamat, per il prelievo di denaro. I cittadini di questi comuni potranno inoltre usufruire senza costi aggiuntivi del postino telematico che arriverà a domicilio e permetterà di effettuare una serie di operazioni, dalle ricariche telefoniche al pagamento di bollette fino all'invio di pacchi e raccomandate. E si sono conclusi in Alta Valle i corsi promossi da Anteas. Si sono conclusi i corsi Anteas per questo anno accademico in Alta Valseriana. Iniziamo da una fotografia della realtà dell'associazione in provincia, soprattutto dei corsi che portate avanti ormai da parecchi anni. Anteas è presente in circa 30 comuni della provincia di Bergamo. Tra i corsi iniziati tanti anni fa e quelli di più recente apertura. Frequentanti i corsi sono circa 2.200 persone e hanno come contenuto un elemento fondamentale che è la cultura. I corsi hanno la caratteristica che non si ripetono mai. Ad ogni località c'è un tipo di corso che può trovare, sì, occasione di confronto con altre località. Però non è una ripetizione, per così dire, che termina in un modo e comincia nell'altro. Proprio si cerca ogni anno di dare una caratteristica di attualità. Storia, geografia, cambiamenti del mondo, l'astronomia, anche perché no, personaggi locali, personaggi di rilievo, musica, personaggi della musica. Cioè si cerca di mettere insieme un pacchetto di proposte normalmente concordati con le amministrazioni comunali o con le associazioni con le quali si ha questo rapporto costruttivo e positivo da anni perché alla fine la bontà dell'iniziativa è quella che vuole ogni anno offrire qualcosa di più e di meglio a coloro che partecipano. In Alta Val Seriana i corsi coinvolgono i paesi da Villa Donia fino a Val Bognone quindi diversi comuni, tra l'altro sono anche fra i più partecipati della provincia. Sì, dicevo poc'anzi che scorrendo l'elenco dei corsi, delle località, delle quantità eccetera, abbiamo questa valle, quest'altra valle come terzo per numero di corso per partecipanti e se pensiamo che mettendo insieme tutta la popolazione certamente non arriva a Bergamo, città dove partecipano in circa 90-100 persone a volte 110, ci rendiamo conto con che il livello di partecipazione sia buono, elevato e di qualità. Enzo Valenti, uno dei partecipanti ai corsi Anteas in Alta Val Seriana, da quanti anni frequenta? Circa otto anni, otto anni sì, potrei dire otto anni. Sono corsi molto interessanti che aiutano ad approfondire la cultura sotto diversi aspetti e soprattutto come è stato detto oggi alla chiusura di questo corso fa conoscere la gente, crea rapporti di amicizia e fa in modo che la gente di montagna stia unita perché come è stato anche sottolineato dai lipedretti se i montanari non stanno uniti non riescono ad ottenere nulla. Quest'anno in modo particolare quali temi sono stati affrontati? Innanzitutto abbiamo ripercorso con un video molto bello lo sbarco sulla Luna poi è stato appuntato un approfondimento sulla figura di Don Sandro Dordi che nonostante sia stato beatificato è poco conosciuto anche qui da noi e alla fine uno degli altri argomenti che mi ha interessato parecchio ed è stato molto bello è quello sulle cause che hanno portato alla prima guerra mondiale in sintesi poi alla guerra e al dopoguerra una guerra che praticamente ha trasformato la società mondiale da una società agricola alla portata a una società industriale come è oggi con aspetti negativi e anche molti positivi. E a Gromo sono già tantissime le letterine portate dai bambini alla casa bergamasca di Babbo Natale Per la sua casa bergamasca Babbo Natale ha scelto di nuovo la Vasseriana quest'anno addirittura in un castello Siamo al castello Ginami di Gromo uno dei borghi più belli d'Italia infatti per la dodicesima edizione è un ritorno un piacevole ritorno eravamo già stati nel 2012 per la casa di Babbo Natale siamo tornati quest'anno in una maniera un pochettino diffusa su tutto il borgo a castello Ginami abbiamo ricostruito la casa di Babbo Natale con tutti i suoi spazi dove lui vive la camera da letto la sala da pranzo la sala da bagno il salone di ricevimento a 100 metri c'è Villa Magdalena dove abbiamo messo i laboratori creativi a tema natalizio gli animali della fattoria i trucca bimbi palloncini eccetera e palazzo Milesi anche dove sono ospitati un po' i mercatini natalizi e c'è la possibilità per tutti i visitatori di visitare il museo delle armi e il museo degli animali delle orobie tanta gente abbiamo visto sin dalle prime aperture oggi addirittura a un certo punto si è formata la coda siamo partiti alla grande già dal primo weekend sicuramente oggi non ne parliamo non era chilometrica però bisognava fare parecchia coda però poi diciamo che siamo organizzati bene ecco e dentro si gode appieno la magia di questo ambiente natalizio che è stato ricostruito al castello Ginami ricordiamo i giorni e gli orari di apertura della casa saremo aperti per tutti i prossimi weekend di novembre e di dicembre fino al 26 dicembre dalle 14 alle 18 e come ogni anno Babbo Natale propone ai bambini anche un concorso ormai è una tradizione quella del concorso delle letterine tra tutte le letterine consegnate a Babbo Natale ne verranno estratte 5 che daranno la possibilità a chi le ha scritte di portare in visita gratuitamente tutti i compagni di classe alla fattoria Riete di Gorno per conoscere gli animali della fattoria l'ambiente rurale eccetera ma in particolare le miniere della Valle del Riso Delitti a Clusone Cronaca Nera dal 400 al 900 è il titolo dell'incontro in programma venerdì 30 novembre presso la Sala Ragazzi della Biblioteca di Clusone alle ore 20 e 30 Avete quindi organizzato un incontro in cui si parlerà dei delitti che dal 400 fino al 900 si sono verificati in quella di Clusone Sì in biblioteca proprio il venerdì 30 novembre c'è una serata nella quale si parla di un argomento che è stato estrapolato dai manoscritti di Filippo Fogaccia il baradello il nostro maggior storico il quale ha scritto diversi appunti e riuniti in cinque volumi manoscritti che sono dopo una serie di vicende erano stati portati dal figlio di Filippo Fogaccia in Brasile sono poi tornati a Clusone e il ciclo baradello li ha fatti restaurare li ha messi a disposizione questo manoscritto che è composto di cinque volumi contiene una una grande quantità di notizie storiche su Clusone da queste da questi manoscritti Carla Polonia ha estrapolato delitti a Clusone della Canera dal 400 al primo 500 che vanno presentati in questa serata allora la biblioteca intende copiare tutti questi volumi del baradello in modo che possono essere resi fruibili da tutti ad esempio da studenti che devono fare ricerche da storici eccetera e per cui questa serata era soltanto voleva mostrare un esempio di cosa si può tirare fuori dai libri del baradello quindi io ho fatto un argomento che sono i delitti ma poteva essere un qualsiasi altro argomento perché sono innumerevoli quelli che si trovano appunto in questi volumi si parte dal primo delitto del 1414 dove un uomo verrà poi impiccato sulla piazza del comune per arrivare agli ultimi delitti impuniti dell'inizio del novecento in mezzo ci sarà un secolo dove lo spargimento di sangue è quasi all'ore del giorno che è il seicento episodi anche curiosi anche un po' particolari ad esempio un uomo che viene scambiato per un lupo e viene ucciso però non dico di più se no nel giallo si toglie il gusto ecco quindi il senso era appunto quello di presentare questa iniziativa della biblioteca e anche se possibile di trovare qualcuno che abbia la buona volontà di copiare parte di questi testi vi dico che è un lavoro interessantissimo che è come una ciliegia che tira l'altra perché quando uno comincia un argomento poi va a cercare l'altro per trovare come si conclude per cui tutti sono invitati se hanno tempo e voglia a fare questo lavoro ci fermiamo per una breve pausa tra poco grazie a tutti Torniamo in onda con il telegiornale di Antena 2. A Castro e a Villa Donia sono in programma due elevazioni musicali per ricordare Don Tommaso Bellini. In occasione del novantesimo anniversario della morte di Don Tommaso Bellini, le corali di Villa Donia e Castro presentano un'elevazione musicale che verrà proposta in due momenti. Iniziamo però col dire chi era Don Tommaso Bellini. Don Tommaso Bellini è un sacerdote nato a Villa Donia nel 1887 e morto nel 1928, quindi quest'anno, 2018, ricorrono i novant'anni dalla morte di Don Tommaso Bellini. Don Tommaso Bellini era un appassionato di musica, un musicista, un compositore che ebbe modo di fondare due corali, una corale a Castro e l'altra corale invece a Trescore. La corale di Castro è stata intitolata proprio a Tommaso Bellini come anche la corale di Villa Donia. Come si è voluto ricordare questo novantesimo anniversario della morte? Sì, per ricordare il novantesimo anniversario della morte di Don Tommaso Bellini, le corali Tommaso Bellini di Villa Donia e Castro, insieme alla collaborazione dell'amministrazione comunale di Villa Donia, l'amministrazione comunale di Castro e le due parrocchie di Villa Donia e di Castro, organizzeranno per il 29 novembre e il primo dicembre due elevazioni musicali. Due elevazioni musicali che verranno eseguiti dalle due corali, separatamente prima e poi con un momento finale eseguendo il magnificat appunto di Don Tommaso Bellini, che è la sua composizione più famosa. Ricordo quindi due appuntamenti delle elevazioni musicali in ricordo di Don Tommaso Bellini. Il primo, il giovedì 29 novembre alle ore 20.45 presso l'antica chiesa parrocchiale di Villa Donia. La seconda elevazione musicale invece a Castro, sempre alle ore 20.45, sabato 1 dicembre nella chiesa parrocchiale di Castro. E a rovetta inizia già nel tardo pomeriggio di sabato, la due giorni della festa d'inverno. Siete a lavoro con gli eventi invernali? Sì, siamo a lavoro con gli eventi invernali. Partiamo sabato 1 dicembre, domenica 2 dicembre con la festa d'inverno. Sabato sera c'è una festa organizzata dal Bar Costadoro, il Bar Millennium, con cena a tema, musica. E alle ore 21 ci sarà una serata dedicata agli sci antichi. Sarà tipo una staffetta sulla via Fantoni. Mentre invece per domenica 2 dicembre ci sarà la classica festa d'inverno in centro del paese con mercatini, artisti di strada, cavallo con la carrozza. E alla sera alle ore 17 ci sarà la sfilata di moda del negozio Boy Shopping, che è una sfilata dedicata ai bambini. Gli eventi poi proseguono con l'8 dicembre ci sarà la festa delle torte organizzate dalle mamme dell'asilo in Piazza Ferrari. Il 9 dicembre alle ore 16 avremo l'arrivo di Santa Lucia con il classico lancio dei palloncini. Il 23 dicembre, 30 dicembre avremo ancora i mercatini sulla Piazza Ferrari con la musica di Leslie Abadini. Il 28 dicembre invece ci sarà il classico concerto della banda alle ore 21 in chiesa parrocchiale. La Proloco di Rovetta quest'anno ha organizzato un concorso per la miglior vetrina. Quindi tutti i commercianti che vogliono aderire possono telefonare in ufficio, prenotarsi. La prenotazione ovviamente è gratuita. Ci sarà una giuria poi che passerà e valuterà le vetrine. Come premio è un buono da 100 euro per la prima vetrina e un cesto alimentare per la seconda vetrina. Questa sera torna Antenna 2 Sport. Elisa Cucchi ci anticipa i contenuti della puntata in programma questa sera. Amici di Antenna 2 è martedì sera e quindi l'appuntamento si rinnova con Antenna 2 Sport. Sarà un martedì sera come sempre ricco di argomenti. Partiremo dal parapendio con la Alpi Frai di Rovetta. Il presidente Luca Camera e tutto il suo staff ci racconterà come ci si butta con il parapendio e andremo a conoscere questa associazione del nostro territorio. Loro si buttano direttamente dal Monte Blum e quindi insomma vicino a casa nostra e abbiamo tante curiosità da scoprire. Ma poi ci sposteremo a conoscere il CONI con la figura di Michela Macalli che è fiduciario CONI. Lei che oltre ad essere fiduciario del CONI è anche rappresentante per il calcio femminile del Nord Italia. Quindi andremo ad aprire questo ampio spazio dedicato al calcio femminile per poi spostarci in una terza parte dedicata alla psicologia dello sport. Incontreremo Emanuele Arioli lui che è un operatore di psicologia dello sport e ci darà qualche consiglio su come iniziare un'attività sportiva sulla costanza e soprattutto racconteremo la sua esperienza con Claudia Cretti la ciclista di Costa Volpino che ha avuto quel grave incidente del 2017 ma grazie anche all'intervento di questi operatori riuscirà a mettersi di nuovo in pista e di nuovo in sella alla sua bici. Vi l'ho detto, è un martedì sera ricco di argomenti e per partecipare al nostro salotto scrivete una mail a antennaduesport.com oppure taggate la vostra foto, il vostro risultato nella nostra pagina Instagram antennaduesport. È martedì 21.30, vi aspetto. Ora continuiamo con la rubrica, qua la zampa, cura del veterinario. Stefano Gusmi. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il veterinario, vorrei darvi qualche suggerimento o uno spunto questa sera per un'attività magari di nicchia ma che qualcuno può intraprendere sicuramente a livello familiare ma anche come attività imprenditoriale che è l'allevamento del fagiano. Il fagiano, dovete sapere, non è un volatile originario dell'Europa ma viene dall'Est, viene dall'Asia. È stato introdotto veramente molto tempo fa dai romani che nelle loro azioni di conquista hanno notato la particolare bontà di queste carni e soprattutto anche la particolare colorazione del piumaggio del maschio e quindi hanno portato in Europa molto tempo fa questo volatile. Quindi non è un nostro volatile ma si è adattato molto bene. Diciamo che l'utilizzo principale che ne viene fatto in Italia è quello di essere allevato e poi successivamente liberato per l'attività venatoria, per la caccia, questo appunto periodo di caccia e sia nelle nostre zone ma anche in pianura è uno dei principali volatili oggetto appunto di questa attività che per qualcuno magari può essere contestata ma è sicuramente un'attività ancora molto diffusa e quindi qualcuno si può inventare, si sta inventando appunto questa attività di allevare fagiani sia a scopo ornamentale sia a scopo di ripopolamento ma anche per attività venatoria formando dei nuclei formati da un maschio e cinque, sette femmine. Si possono utilizzare dei capannoni, delle gabbie sotto delle tettoie, delle gabbie grandi chiaramente che devono avere almeno dimensioni di due o tre metri per un metro e mezzo e piuttosto alto dove l'animale può muoversi, con un pavimento leggermente inclinato per facilitare la raccolta delle uova e poi si può scegliere se fare un incubazione naturale o artificiale, cosa vuol dire? Le femmine possono avere dei nidi dove periodicamente covano appunto i polcini di fagiano oppure una soluzione più sicura e più gestibile è utilizzare delle incubatrici per 21-22 giorni, queste uova vengono appunto tenute in incubatrice e dopodiché nasceranno appunto i polcini di fagiano. L'allevamento sicuramente è abbastanza impegnativo ma il fagiano è un animale piuttosto resistente e nel periodo in cui fine estate e inizio ottunno possono essere vendute le numerose associazioni di cacciatori che sono sempre la ricerca appunto di animali per il ripopolamento. Quindi il fagiano vedete appunto è un prodotto di nicchia, è un volatile facilmente allevabile e sicuramente piuttosto richiesto rispetto magari ad altri volatili che ormai sono allevati industrialmente in quantità molto elevata e quindi spuntano prezzi piuttosto bassi. Bene, per questa serie è tutto, ci vediamo settimana prossima con un nuovo appuntamento di qua alla Zampa. Arrivederci! Grazie a tutti! Torniamo in onda con il telegiornale di Antena 2 e ora continuiamo con la programmazione televisiva questa sera sul canale 88 alle 25 minuti trasmetteremo 20.000 giri, le 20.40 il sasso nello stagno torna tranquillo questa settimana, è stato ad Albino e si è occupato del Black Friday. Alle 21.30 trasmetteremo Antena 2 Sport, alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23.10 i tempi supplementari, la mezzanotte e mezza, la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. L'almanacco per domani mercoledì 28 novembre, il sole sorge alle 7.32 e tramonta alle 16.44, il culmine è alle ore 12.08, la durata del giorno è di 9 ore e 12 minuti. La luna sorge alle 22.19 e tramonta alle 13 di giovedì, la fase lunare, la luna è calante ed è visibile al 58%. La chiesa ricorda sana Giacomo della marca, ecco le previsioni del tempo, per mercoledì si prevede cielo sereno su tutti i settori, temperature in aumento le massime. E con questo è tutto, noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.